Straccetti di tacchino alla mediterranea, una ricetta facile, economica e super buona. Facciamoli insieme. Iniziamo! Per prima cosa batto le fettine di carne su entrambi i lati, poi le taglio a pezzetti e passo i pezzetti nella farina. Ora taglio la cipolla, poi taglio i pomodorini in quattro parti, snocciolo le olive, in padella metto l'olio. Quando sarà caldo metto la carne in modo che tutti i pezzetti tocchino il fondo e faccio cuocere a fiamma alta un minuto per lato. A questo punto metto la cipolla, sfumo con il vino bianco e a fiamma alta lascio evaporare. Evaporato il vino metto i pomodorini, regolo di sale, metto il pepe, aggiungo le olive e faccio cuocere per 15 minuti a fiamma bassa con il coperchio. Poi spengo e vado a servire. Guardate qua! Una bontà!